Il 7-8 di aprile, a Torino, nella sede della Scuola Holden, un posto dove si costruiscono narratori. Un grande evento insieme a Challenge Network, dedicato al Corporate Storytelling, ovvero come la narrazione possa essere utile al mondo dell'impresa. Insieme a me, altri cinque grandi maestri, Alessandro Baricco, Roberto Saviano, Oscar Farinetti, Bebevio e Pupiavati. Coordinati e capitanati da Riccardo Luna, cercheremo di raccontare come il mondo dello sport, del cinema e della letteratura possa insegnare al mondo dell'impresa. Ci sono 200 posti a disposizione, vi aspettiamo, impossibile non esserci.